In collaborazione con Glam Vision e K. Fakli. Giallo e dramma nei boschi di Celedizzo. Un colpo alla nuca è la certezza che Lucetti è stato ucciso. Si attende la perizia balistica dei RIS di Parma. Suicida il 59enne che ha trovato il cadavere del giovane. Carroenergia e inflazione spingono i prezzi ma gli stipendi restano fermi. È la crisi del costo della vita. Serve un Next Generation e un Energy sull'esperienza di Covid. Un lupo è morto nel tentativo di attacco a un allevamento in Val Sugana. Un cane da guagliania è invece rimasto ferito in un'altra predazione a Brentonico. Prana parte del sentiero della Bepisac, il sindaco. Riaprirà la prossima primavera, chiusa per sicurezza. Nuovo stop a pochi giorni dall'annuncio di riapertura. A 30 centimetri di profondità, temperature sopra i 35 gradi. La siccità estiva brucia. Le piante di Cannabis Light danno da 40.000 euro. Sei un lavoratore autonomo o hai una piccola impresa? Scadenze fiscali, novità normative, fatture e versamenti. Sono molte le cose che possono farti girare la testa e perdere tempo. Non rischiare. CAFACLI ti dà una mano ed è pronto a risolvere ogni tuo dubbio. Grazie ad operatori esperti e con tariffe contenute, avrai una consulenza completa anche nelle fasi iniziali. Scadenze fiscali e previdenziali rispettate, uno strumento per la fatturazione elettronica, servizi anche online e a distanza. Contabilità sotto controllo ma senza stress? Si può con CAFACLI.